Alla fine Berlusconi l'ha spuntata su Salvini. Caldoro sarà il candidato della coalizione di centrodestra alle regionali in Campania. Per la terza volta in campo l'esponente di Forza Italia, tenuto sulla graticola per mesi, può ufficialmente iniziare la sua campagna elettorale. L'accordo raggiunto prevede che la Lega indichi i candidati alle comunali in alcune città del centro-sud, lasciando le regionali in capo a Forza Italia. Caldoro in una nota ha ringraziato Berlusconi. Ho scelto la mia terra per l'impegno politico ed istituzionale. Insieme, lo dico a tutti i campani, facciamo ripartire la campagna con serietà e passione, ha dichiarato l'ex governatore. Dopo cinque anni dunque la campagna andrà a votare con gli stessi candidati. Vincenzo De Luca per il centrosinistra, Stefano Caldoro per il centrodestra e Valeria Cerambino per il Movimento 5 Stelle. De Magistris si è chiamato fuori dalla competizione, scegliendo di concludere il suo mandato di sindaco a Napoli. Ma il suo movimento sarà in campo alle regionali con una lista civica. In queste ore si sta lavorando ad un progetto alternativo con gli altri fuoriusciti della sinistra, Rifondazione Sinistra Italiana e Poteri al Popolo. Ma non si esclude un accordo in estremis con i 5 Stelle. Una cosa è certa, dice il sindaco, mai con De Luca né con la destra. Vedendo a sostegno di chi, insomma, è chiaro che le due cose che posso dire che non è tezza, che non ci starà un sostegno a De Luca, perché siamo eticamente, prima ancora che politicamente, distanti, è escluso anche il centrodestra. Quindi, vediamo, rimangono un paio di opzioni. A provare a costruire una coalizione alternativa e soprattutto a lavorare in maniera molto compatta per una prospettiva nazionale e per le amministrative del 2021.